Pochi addetti e poche risorse, bisogna fare subito più assunzioni e stanziare risorse adeguate. A dirlo sono il segretario della FIT CISL Toscana Stefano Boni e la responsabile regionale FIT per Anas, Rossella Tavolaro, riguardo le strade di competenza Anas, tra cui anche la I-45. Attualmente, dicono i sindacati, Anas in Toscana gestisce circa 1.700 chilometri di strade e 1.000 fra ponti e cavalcavia, con soli 65 addetti operativi e 28 responsabili. Secondo i sindacati, siamo ampiamente sotto le soglie di legge. Chi viaggia sulle strade nella nostra regione, continuano Boni e Tavolaro, ha la sensazione di essere su un percorso ad ostacoli, fatto di buche, avallamenti, sopralzi o più semplicemente di continue appezzature che mettono alla prova automobilisti e motociclisti. La situazione, concludono i sindacati, è allarmante e necessita di assunzioni massicce di personale in pianta stabile per questo è necessario che il governo individui risorse da investire nella manutenzione delle strade. Intanto è stato il responsabile di Anas Toscana, in occasione della visita del ministro Danilo Toninelli sul viadotto Puleto, ad annunciare gli imminenti lavori e la loro tempistica. L'intervento sul Puleto è un intervento in realtà importante per il viadotto, perché non è un intervento di ripristino, di parti ammalorate e così via, ma in realtà noi facciamo un vero e proprio adeguamento sismico. Le lavorazioni saranno relative al rifacimento completo della soletta, al rifacimento del sistema di appoggi, ma appoggi che saranno apparecchiature moderne, viscoelastiche, isolatori sismici che serviranno alla struttura per avere la resistenza al sisma e quindi l'integrazione di prestazione è molto elevata. In un primo periodo noi stiamo facendo, in un primissimo periodo contiamo di concludere una ventina di giorni, entro comunque il mese, il rinforzo di alcuni baggioli e il rinforzo della linea delle barriere di sicurezza, questo con l'obiettivo di presentare alla Procura una nuova proposta di riapertura, questa volta ai pesanti. Quindi noi abbiamo due obiettivi, uno a cortissimo termine che serve finalizzata l'area di apertura che è quella che è assolutamente necessaria e stiamo parlando dell'ordine di grandezza, da noi valutato e ritenuto nell'ordine di grandezza di un mese, mentre il secondo obiettivo è quello di completare i lavori, ma questo attiene alle normali attività che noi facciamo che è previsto nel giro di sette mesi da oggi. E per quanto riguarda la ex trebis? Allora sostanzialmente il Ministero ci ha autorizzato la stipula di una convenzione per fare noi i lavori e quindi insomma siamo pronti a partire, non in tempi immediati, non in tempi immediati, io se dovessi fare un'ipotesi nel giro di un mese potremmo già partire con i lavori nel tempo. E che zona che è crollata a Pieve Santo Stefano? Allora i lavori, quella è una situazione, tutte le situazioni diciamo di corpo stradale sono abbastanza complesse, richiedono degli interventi che vanno studiati, calcolati e così via, il progetto è in fase di conclusione, l'impresa c'è già, ripartiremo entro uno o due mesi.